I licei dell'istituto di istruzione superiore a Manzoni di Mistretta offrono un'offerta formativa adeguata alle esigenze della nostra società in continua evoluzione culturale, scientifica e sociale. Attenti a valorizzare la realtà del nostro territorio, partner di enti pubblici e istituzioni che aiutano gli studenti nel loro processo di crescita umana e professionale. Le numerose attività e i progetti che arricchiscono l'offerta formativa dei nostri licei consentono di acquisire consapevolezza e di raggiungere il successo formativo indispensabile nelle scelte post diploma. I traguardi raggiunti dagli ex allievi, laureati e non, che si affermano nei vari ambiti lavorativi, ne sono alla conferma. La formazione di qualità nell'istituto di Manzoni, una realtà in continua evoluzione dal passo con i tempi e con uno sguardo sempre priviettato al futuro e assicurata. La formazione di qualità nell'istituto di Manzoni, un'istituto di Manzoni, la formazione di qualità nell'istituto di manzoni e interni dell'istituto di manzoni Grazie a tutti